ciao amici sapete chi sono? sono il sole e oggi sono venuto per salutarvi e per farmi salutare così da trasmettervi tutta la mia energia sapete come farlo? beh non mi riferivo esattamente a questo ma a qualcosa di più originale il saluto al sole ve lo insegno? bene iniziamo con la prima posizione alzati in piedi con la schiena dritta e i piedi uniti ora unisci anche i palmi delle mani all'altezza del cuore inspira profondamente quando butti fuori tutta l'aria inspira alzando le braccia quando arrivi più in alto che puoi inarca la schiena e a voce alta di ciao sole ciao amici ora salutiamo la terra butta fuori l'aria mentre ti piedi in avanti e tocca terra con i palmi delle mani e a voce alta di ciao terra ciao ragazzi perfetto continuiamo con il saluto inspira e senza staccare le mani dal pavimento porta il piede destro indietro appoggiando a terra il ginocchio e il collo del piede e ora spingi le mani a terra porta il piede sinistro indietro e alza il più possibile i fianchi rimanendo nella posizione del cane guardate chi è arrivato il cane yogi è venuto per insegnarci la sua posizione mentre facciamo il saluto al sole ciao yogi adesso stenditi per terra a pancia in giù senza staccare i palmi delle mani da terra faremo la posizione del cobra avremo bisogno dell'aiuto del cobra namastè cobra namastè ci aiuti senti il tuo respiro e ispirando premi a terra con le mani e alza la testa e il petto e allo stesso tempo butti fuori l'aria dalla bocca attraverso i denti ascoltando il suono del cobra ora torniamo nella posizione del cane ricorda di alzare i fianchi al massimo fai un grande passo e abbassa i fianchi con la gamba sinistra avanti mentre inspiri molto bene ora senza staccare le mani da terra fai un altro passo in avanti e torna in posizione per salutare la terra ciao terra ciao ragazzi ci vediamo presto ora invece dovrai salutare me mentre inspiri alza molto piano le braccia allunga bene gambe schiena e braccia per salutarmi non rimane che tornare nella posizione iniziale mentre butti fuori l'aria sarebbe bellissimo se tornaste a salutarmi ogni mattina a presto amici ti è piaciuto il video ne abbiamo molti altri clicca sulla foca per iscriverti al canale smile and learn e se vuoi continuare a imparare fai click sui riquadri